Ciao ragazzi, ciao ragazze Ciao Benvenuti in un nuovo Vlog Flash Allora Siamo venuti qui a prendere l'acqua al fiorda perché è un'offerta e poi la pappa, le gatte, gli facciamo la scorta prima di partire così almeno siamo a posto il mega bustone e niente vi faccio uno spoiler o un singhiotto no non ve lo faccio, mi sono fatta la coda perché oggi piove e quindi non vorrei rovinare i miei capelli stirati, che sono stirati benissimo adoro non ho passato la piastra ho detto non ha senso passare la piastra perché tanto voglio dire piove ma ripasso domani poi li lavo ecco e niente oggi è una giornata di M oggi è proprio una giornata di ecco e nulla facciamo però le cose c'è tanta gente in giro ragazzi c'è tanta gente e riscaldamenti li hanno messi proprio a palla quindi si suda però io sono vista così con la mia maglia dell'Adidas questa manica lunga questa che vi ricordo che non mi entrava manco a pagarla e la metterà che ce l'ho su ho su dei jeans con sì con le paillette con le perline e ho messo questo qua smanicato col cappuccio e ho la borsa questa qui camomilla da batticuore e niente ci vediamo con un video o live ciao